Si è svolta a Rimini la ventesima fiera di Ecomondo, 1200 imprese distribuite su 16 padiglioni, oltre 100.000 visitatori da tutto il mondo e 500 buyers stranieri. Vediamo il servizio che abbiamo realizzato. Da martedì 8 a venerdì 11 novembre si è svolta a Rimini la ventesima edizione della fiera internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile. Il focus dell'edizione 2016 è la Green Economy italiana in Europa e nel mondo. Nei giorni 8 e 9 novembre si è svolta anche la quinta edizione degli stati generali della Green Economy. Il quartiere fieristico di Rimini sorge a nord della città su una superficie totale di 460.000 metri quadri, di cui 160.000 metri quadri di aree verdi. È dotato di una stazione ferroviaria interna sulla linea Milano-Bari e di un'eli superficie. È organizzato su un unico livello, con tre diversi ingressi, conta 16 padiglioni, 20 sale convegni modulabili, 11.000 posti auto, 2 ristoranti, 3 sale stampa. Insomma, è una struttura davvero maestosa. Gli stati generali della Green Economy sono un processo di elaborazione che si svolge nel corso dell'intero anno attraverso l'attività di 10 gruppi di lavoro su 10 temi strategici della Green Economy, che vede la sua conclusione proprio nel grande evento di Ecomondo Key Energy. Gli stati generali quest'anno hanno visto la presenza di oltre 70 relatori italiani ed internazionali. Sono organizzati dal Consiglio Nazionale della Green Economy, che è composto da ben 64 associazioni di imprese green, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dello Sviluppo Economico e con il supporto della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. All'interno dei 16 padiglioni abbiamo incontrato dei personaggi molto autorevoli, i principali opinion leaders green della Green Economy. Abbiamo potuto assistere alla sessione di apertura, alla presenza del Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Mare e del Territorio, Gianluca Galletti. Antonio Rancati. Antonio Rancati ha ricoperto diversi ruoli, attualmente è coordinatore nazionale della didattica e formazione nel Comitato Scientifico del CETRI e responsabile delle relazioni esterne del Circolo Europeo Terza Rivoluzione Industriale sulle teorie della Green Economy del professor Jeremy Rifki. Gianni Silvestrini, direttore scientifico del Kyoto Club, direttore della rivista QualEnergia, presiede il Green Building Council Italia e il coordinamento FRI. ha scritto un importante libro sui cambiamenti climatici dal titolo Due Gradi. Abbiamo incontrato Simone Togni, presidente di Anev, Associazione Nazionale Energia del Vento. Giovanni Battista Zorboli, presidente di Ises Italia, la prima istituzione in Italia sul solare. Fabio Roggiolani, vicepresidente del gruppo GIGA, gruppo informale per la geotermia e l'ambiente. Il presidente di Asso Rinnovabili, Agostino Re Redabuengo. Ed infine Romano Ugolini, presente in Fiera per Condominio Eco, amministratore delegato di Ecoarea SRL. Abbiamo realizzato ad Ecomondo Rimini le interviste con ciascuno di questi personaggi. Infine, vi informiamo che a breve verrà trasmessa una rubrica ambientale con cadenza quindicinale, la cui puntata pilota o numero zero è partito proprio ad Ecomondo. All'interno di questa rubrica approfondiremo il variegato mondo della Green Economy con il supporto di alcuni ospiti della provincia di Viterbo e non solo.